Ma è arrivato il momento del primo ospite, ogni volta che in Italia si parla di trame oscure, di cose nascoste dietro agli avvenimenti salta fuori la parola massoneria. Ma che cos'è la massoneria? Nessuno ne sa niente, io sono un po' curioso, volevo saperne di più e così ho invitato il gran maestro della Gran Loggia Regolare d'Italia, il professor Giuliano Di Bernardo. Ben arrivato, ben arrivato professore, come va? Ben arrivato, bene lei? Molto bene, grazie, la ringrazio di aver lasciato il nostro invito, so che è pieno di impegni, fra l'altro lei è professore di filosofia della scienza a Trento, oltre a avere questi impegni massonici che immagino gravosi, insomma, tutta la massoneria italiana praticamente. Tutto è gravoso. Tutto è gravoso, questo è vero. Ora la maggior parte, come dicevo nell'introduzione, la maggior parte degli italiani ha saputo che esisteva una cosa chiamata massoneria, credo, in seguito, a meno non è mai capitato così, in seguito allo scandalo della P2. Prima non ne sapevano niente, poi improvvisamente questa cosa. Da allora noi associamo il termine massoneria ai servizi deviati, alle trame occulte, alle stragi, ma è questa la massoneria? Che cos'era? La massoneria non è questa. La massoneria non ha nulla a che fare con la P2, né con le cose di cui è stata accusata la P2, stragi, collusioni con servizi segreti, trame contro lo Stato. La massoneria è qualcosa di diverso e io spero questa sera di poterla finalmente spiegare a voi e agli italiani, perché si è tanto parlato di massoneria, sempre però fraintentente nel significato più profondo. Dopo la mia elezione a Gran Maestro del Gran Torriente io ho ricevuto numerose telefonate da gente sconosciuta nel 1990. Cioè la gente si concratulava con me perché ero diventato potente come Gelli. Ma è questo il potere della massoneria? E questa la massoneria? Certamente no. La massoneria è una concezione della vita dell'uomo. Sono massoni quegli uomini che si ispirano a certi principi, che li interiorizzano e li assumono come ragioni della propria condotta. Quali sarebbero questi principi? Sono i principi della libertà, della tolleranza, della fratellanza, della trascendenza e del fondamento iniziato. Io vorrei alcuni cendi storici sulla massoneria. Quando è nata, dove è nata? Quando parliamo delle origini della massoneria possiamo distinguere le origini filosofiche dalle origini storiche. Lasciamo da parte le origini leggendarie perché ci fanno dire della massoneria tutto e il contrario di tutto. Se noi andiamo a leggere i rituali massonici, i rituali della massoneria inglese, che sono i più antichi rituali, vi troviamo tracce di ciò che è stata chiamata filosofia occulta. La filosofia occulta è quella che ha trovato uno dei maggiori rappresentanti in picco della mirantola e che consiste nell'ermetismo, nella cavale cristiana, nell'alchimia, nella magia, nel rosa crocianesimo. Ebbene, la massoneria inglese nasce recepento tutto questo. Siamo nel 1717. Ecco, allora ritorniamo alle origini storiche della massoneria. La massoneria nasce modernamente, poi spiegherò questo termine modernamente, il 24 giugno del 1717, giorno in cui quattro logge di Londra si riuniscono e danno vita ad una gran loggia, ovvero ad un organismo che si eleva al di sopra delle cinque logge e ne assume il controllo. Precedentemente, al 1717, esisteva la cosiddetta massoneria operativa, la massoneria costituita da uomini che materialmente costruivano le cattedrali. Ecco perché operativa, operavano costruendo le cattedrali. Ma dal 1717 la massoneria diventa speculativa, nel senso che accetta anche uomini che non costruivano materialmente le cattedrali. Accetta il clero, accetta la nobiltà, accetta gli intellettuali, i membri della Royal Society. Il capo della massoneria in Inghilterra? Generalmente il re. Quando vi è una regina, come in questo caso, è il nobile più vicino alla corona. Attualmente è il gran maestro della gran loggia unita d'Inghilterra, il duca di Kent. E quindi nasce in Inghilterra nel 1717 e lei prima accennava il fatto che è stato gran maestro del Grande Oriente. Adesso invece nel 93 ha fatto uno scismo in realtà. Si è staccato dal Grande Oriente e ha fondato una gran loggia regolare. Cosa vuol dire regolare? Regolare ha diversi significati. Innanzitutto significa regolare rispetto alla tradizione secolare massonica. Sulle ragioni della mia uscita dal Grande Oriente e le ragioni che mi hanno intotto affontare una nuova massoneria in Italia sono state dette tante cose. Indubbiamente vi sono cause diverse. Però la più importante è quella da me più volte ripetuta ma mai ascoltata. Ossia che nel Grande Oriente io non trovavo più quei principi di una tradizione secolare così come erano stati concepiti in Inghilterra. Io infatti ho ricepito dalla massoneria inglese costituzioni, regolamenti e rituali. Perché si entra in massoneria in realtà? Cioè la sua esperienza qual è stata? Quando è entrato lei in massoneria? Ma io sono entrato in massoneria 40 anni fa. Per voi giovani sempre ha un tempo enorme. Ma anch'io sono stato giovane e ricordo quegli istanti della mia vita. Io ho saputo dell'esistenza dell'esistenza della massoneria intorno ai 16 anni. Era il tempo in cui divoravo liberi di filosofia. Ero affascinato dalle grandi costruzioni del pensiero di Platone, di Aristotele, Hegel, Kant. Ma queste letture mi lasciavano per così dire freddo, indifferente. Non riuscivo a capire come poterle assumere a ragioni della contotta. Un giorno incontrai un vecchio massone che mi parlò per la prima volta. Avevo 16 anni. Dove eravamo qui? Io sono nato in un paese ad Abruzzo, alle pentici del Gran Sasso. Si chiama Penne. Penne. E il vecchio massone era abruzzese? No, si trovava lì per caso. Questo vecchio massone era passato lì per caso e mi parlò di massoneria. Io rimasi innanzitutto affascinato dall'entusiasmo con cui quest'uomo parlava di massoneria. Ma poco a poco compresi il significato profondo di questa massoneria intesa come concezione della vita. Cioè mi offriva una concezione della vita, mi offriva dei principi in cui credere e da interiorizzare. Ebbene, io trovai in quel modo la possibilità di coniugare la freddezza della filosofia, se vogliamo, con la contotta e i principi espiratori della contotta nella massoneria. Quell'anello di congiunzione che andavo cercando l'avevo finalmente trovato. Ed è stata guida a tutte le mie azioni in questi 40 anni. Come mai in Inghilterra, madre patria, posso immaginare il motivo, ma in America eccetera, la massoneria ha cerimonie pubbliche, i giornali pubblicano tranquillamente i nomi degli adepti eccetera eccetera, e in Italia invece viene tutto un po' nascosto eccetera eccetera. Ecco, questa è una deviazione rispetto alla tradizione secolare, cioè è una deviazione in Italia. Chiunque di voi si trovi a Londra e voglia visitare il tempio della massoneria inglese. Sì, io qui, sì. Che si trova in Freemason's Hall. Sì, infatti c'è questa, per far vedere questa cosa, c'è una fotografia qui. È subito la prima pagina. Sì, sì. Freemason's Hall? Ecco, questo qui ancora più. Ah, questo, sì, certo. Questo è Freemason's Hall. Grazie.